Secondo cui, se c'è un oggetto che è chiuso dentro una buca di potenziale, cioè c'è un oggetto che ha delle pareti intorno e l'oggetto ha un'energia troppo bassa per scavalcare la parete, pensate appunto a un uomo che non abbia sufficienti energie per saltare due metri, non ce la fa a saltare due metri e quindi è bloccato dentro una zona, bene, secondo l'effetto tunnel può accadere che anche se lui non ha l'energia sufficiente, riesce comunque a passare dall'altra parte, è appunto come se potesse scavare un tunnel, ci passa sotto e compare dall'altra parte. Questo è un evento che può avvenire molto raramente, c'è una bassa probabilità, ma ha una probabilità non nulla. Allora, l'idea di Wilencki è che un universo piccolo può trasformarsi in un universo grande in base all'effetto tunnel, lui l'energia per passare all'universo grande non ce l'avrebbe, ma con l'effetto tunnel passa. Allora, la cosa interessante viene quando lui studia quanto piccolo può essere questo universo per mantenere comunque una probabilità di passare all'universo grande e lui si accorge che con le leggi dell'effetto tunnel gli dicono che l'universo può anche diventare zero, cioè anche se l'universo diventa zero, gli rimangono comunque delle piccole probabilità di trasformarsi in un universo grande, ma un universo che è zero, quello sì che è il nulla, quindi un universo che non c'è perché è diventato in dimensione zero può comunque trasformarsi in un universo che c'è, in un universo più grosso. Questa è proprio la generazione dell'universo dal nulla, il nulla dei filosofi. Naturalmente questa è un'osservazione che fa Vilenchi, bisogna dirlo a suo merito, ma a sua onestà, lui si pone il problema, sì sì, così si nasce dal nulla, ma il problema è che per nascere ci vogliono le leggi dell'effetto tunnel, perché se non c'è l'effetto tunnel tutto questo lavorio dell'universo piccolo che trapassa nel suo grado non si può fare. E dunque si può porre la questione, l'universo non può nascere proprio dal nulla, può nascere dal nulla in quanto, diciamo così, materia, ma deve avere delle leggi a sua disposizione, le leggi della meccanica quantistica. Allora, chi ha fatto queste leggi? Queste leggi c'erano prima dell'universo, nascono con l'universo, non possono nascere dopo, se no l'universo non nasce, perché ne ha bisogno subito di queste leggi. Sono tutti i modelli che appunto affrontano questo problema e che sono interessanti perché fanno vedere che in definitiva la scienza ha la possibilità di arrivare a discutere questi problemi, che poi le risposte siano più o meno accettabili o meno, ma questo è un punto su cui vale la pena di riflettere, perché appunto ci suggerisce di quanto la scienza possa fare nel farci conoscere sempre meglio il mondo in cui viviamo. Al di là comunque di questi modellini particolari, che a volte sono un po' più dei giochi intellettuali, che delle cose serie anche a detta dei loro stessi autori, soprattutto Wilenkin, accanto a questo il problema della creazione dell'universo, e qui vengo all'ultimo punto che tratto, si è posto in termini sostanzialmente nuovi, inusitati veramente, in connessione con un principio che ha fatto molto discutere, il cosiddetto principio antropico. Il principio antropico sostanzialmente dice questo. Nella fisica ci sono varie costanti naturali, oltre ad avere delle leggi che parlano di grandezze variabili, ogni tanto ci sono le costanti, che in genere sono indicate con la lettera K, o comunque ci sono tra grandezze di vario genere dei rapporti fissi, dei rapporti costanti. Il valore numerico che assumono queste costanti, o questi rapporti, per esempio il rapporto tra la massa di ogni protone e la massa di ogni elettrone è sempre 1840, perché è così non lo sa nessuno. Appunto questi valori numerici, compagno nelle costanti, o a volte appunto come prodotto di rapporti tra grandezze, assumono valori numerici che la scienza deve assumere, deve assumere come un dato. Risultano così e non c'è nessuno che sappia dire perché l'elettrone deve essere proprio 1.840 volte più piccolo del protone. A volte questi numeri possono anche essere diversi da quello che sono senza produrre catastrofi, ma ci sono moltissimi invece i valori numerici che se fossero diversi, allora produrrebbero delle catastrofi. Se alcune costanti numeri, compagno nella fisica, assumono valori anche leggermente diversi, la vita sulla Terra, per essere fatti come noi, ma anche fatti come tutti gli animali che ci circondo, diverrebbe impossibile. Dunque noi dobbiamo ritenerci estremamente fortunati. È come se noi avessimo vinto varie lotterie. Sarebbe bastato pescare un numero un po' diverso da quello che abbiamo pescato per rendere la nostra vita impossibile. Noi non saremmo apparsi. Se questi numeri fossero stati diversi, noi non saremmo qui a parlarne. In altri termini, le costanti numeriche, o comunque molti aspetti della fisica in cui viviamo, sembrano essere veramente decisive per la nostra vita. Dunque noi siamo degli esseri che sono stati molto fortunati. È come se avessimo vinto tante volte delle lotterie. Può essere solo un caso? Questo è il problema. Questa è la questione. Questi numeri, così strani, così bizzarri, però così indispensabili per la nostra sopravvivenza, sono capitati lì per caso? O c'è stato un progetto? Un progetto intelligente che ha pensato il mondo, fatto esattamente con quelle costanti numeriche, in modo da far sì che l'uomo potesse vivere. Quindi ecco perché si parla di principio antropico. si spiega, si spiegano tantissimi aspetti del mondo indicando l'uomo come fine di un atto creativo, di un progetto e di un atto creativo. Senza quest'atto creativo bisogna rivolgersi al caso, cioè se non pensiamo a un progettista, dobbiamo ammettere che questi numeri sono capitati lì per caso e noi abbiamo avuto una grandissima fortuna a riuscire a vivere in un mondo con i numeri giusti per noi. Ecco, allora questo principio antropico è diventato la forma in cui si è discusso negli ultimi anni il problema del creazionismo. Se si dice che appunto c'è un progetto intelligente che ha tarato i numeri del mondo in modo da far sì che l'uomo fosse possibile all'uomo vivere, evidentemente c'è stato un atto creativo. L'universo è nato perché c'è stato il progettista che l'ha progettato in quel modo e poi in qualche maniera l'ha attuato. Ecco perché il principio antropico diventa la veste nuova con cui si discute del problema della creazione. Di fronte a questa, e qui adesso finisco, di fronte allora a questa domanda come possiamo spiegarci la straordinaria coincidenza tra numeri che riscontriamo e nostre esigenze biologiche gli atteggiamenti che si possono assumere e che sono stati assumiti appunto sono diversi. Senza la cattedra davanti mi sento come nudo, scusate. Di solito appoggio i fogli sulla cattedra, queste poltroncine sono comode. Va bene, non voglio farvi perdere il tempo. Una prima risposta è ovviamente quella di dire che effettivamente c'è stato un progetto intelligente, effettivamente c'è stato un creatore. Questo tipo di risposta presta il fianco a svariate obiezioni. Per esempio una che aveva citato Bocchi che la presenza di questo Dio è un po' ad hoc, viene messo in gioco quando fa comodo e viene poi scartato quando non fa comodo. Un'altra è che in realtà non si spiega niente perché dire che c'è stato qualcuno che ha creato il mondo non significa minimamente far luce su qual è stato il meccanismo che è stato messo. In che modo è stato creato il mondo. Si avanzano comunque poi ipotesi assolutamente non controllabili. E poi l'obiezione più forte di tutte è quella che se noi facciamo appello a Dio quando ci troviamo di fronte a un problema che non riusciamo a risolvere ebbè blocchiamo allora ogni ricerca ulteriore. Se noi diciamo la questione del perché ci sono esattamente questi numeri la risolviamo dicendo c'è stato un Dio che li ha voluti e li ha fatti e in questo modo noi finiamo con la ricerca. L'ipotesi di un intervento divino per definizione si potrebbe dire è una porta che viene chiusa. Una volta scelto che ricorriamo a Dio non ci interessa più nulla andare avanti a cercare di scoprire qualcosa d'altro. Diciamo è un atteggiamento di materialismo metodologico quello che deve assumere lo scienziato. Lui si deve sfruttare